buonasera amici di nuova news 24 è stata una settimana tormentata per i vipponi nella casa del grande fratello vip ma i sondaggi parlano chiari in nomination nell'ultima puntata sono andate la favoritissima nikita saralto bello antonino spinalbese ovviamente andrea maestrelli daniele dal moro e nicole murcia ma intanto amici di nuova news 24 si parla di sondaggi e quindi non è detto che quello che vi stiamo raccontando poi sia la verità ma al 90 per cento i sondaggi ci azzeccano sempre amici di nuova news 24 vi diremo chi uscirà questa sera ovviamente sono solo dei sondaggi come detto quindi prendeteli con le pinze nella casa del grande fratello ovviamente il clima si fa sempre più teso e probabilmente antonino spinalbese tra i favoriti questa sera insieme a nikita più deboli ovviamente saralto bello e andrea maestrelli daniela dal moro e nico lucia più o meno sono un pochino meno preoccupati e più al sicuro anche perché daniele ultimamente sta creando tantissime dinamiche con martina nasoni e anche oriana marzoli quindi potrebbe essere lui uno di quelli che crea dinamiche nella casa e vogliono il pubblico da casa vederlo fino alla fine ma ovviamente a parte daniele che dovrebbe essere almeno salvo l'unico nodo da sciogliere quello tra saralto bello e andrea maestrelli e viviamo adesso i risultati del televoto ufficiale di quello che dà il sondaggio nikita al 29 per cento anche perché il sondaggio parla chiaro chi vuoi salvare daniele al 19 per cento saralto bello al 16 per cento poi nico il murcia antonino e andrea quindi antonino e andrea diciamo che sono molto vicini e potrebbe esserci un colpo di scena almeno questi sono dei sondaggi lanciati sui vari siti web non sono i televoti ufficiale ci teniamo a precisarlo ovviamente sono dei sondaggi che danno ovviamente antonino andrea molto vicini ovviamente quello che dovrebbe avere meno voti di tutti dovrebbe essere proprio andrea maestrelli ma potrebbe esserci un colpo di scena intanto sempre nikita spicca tra le più votate dei preferiti ovviamente nikita pelizzone amatissima dal pubblico e questo lo sapevamo ma se amici di nuova news 24 vi siete perse le ultime su nikita andatele a riguardare sul nostro canale intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nuova news 24